Siamo sul Monte Busca, località Inferno, così nota perché da quando si ricordi arde da un foro nella pianura un fuoco eterno che è conosciuto come il vulcano più piccolo d'Italia. Ora ve lo faccio vedere. La giornata è caldissima, non ci sarebbe bisogno di questo fuoco, ma qui la temperatura è veramente alta. Questo è il vulcano più piccolo d'Italia.